Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica dedicata al mondo felino e ai loro comportamenti. Ovviamente la nostra direttrice d'escursione è Candy Candy, già testimonial del pet camper tour, che vi aspetta nelle prossime tappe Lazio e Umbria. Ricordate, ma oggi di cosa di parla Candy Candy? Del grooming! Quel modo tutto sdolcinato e unico che hanno i gatti di creare un odore comune per creare una sorta di colonia, in questo caso una colonia familiare. E così col pettine, in questo caso col cardatore, si crea un momento di grande intimità col vostro gatto. Abituateli fin da piccoli, a loro cominciano a piacere come un vostro momento unico e speciale di tua lettatura, gioco e relazione. Ovviamente c'è un pettine adatto per ogni tipo di gatto e ogni tipo di pelo, ma fondamentalmente a noi serve per creare relazione. Quindi nel caso di Audrey, che perde poco pelo e che vive come un gioco questo pettine, vedete? Si crea un momento magico da condividere. Abbiamo Vinicio, che come vedete adora essere pettinato, sta già facendo le fusa ma non si sentono. E con Slash vi diamo appuntamento alla prossima pillola felina. Non vi svegliamo nulla, se non che lui sarà il grande protagonista. Ciao! Ciao!